se è cocco bello ma mia ma che nomi ma è coconut let's go toccare la pacotto ma perché questa pacotto io qui c'è sui pacotto povera ragazza povera donna la mia doppiatrice preferita ma non lo so have it yes but now the coco the the coconut uh shards are inside not outside it was screen per tutti no they don't unfortunately i wish fresh hold up hold up for record it's a record it's a record gg vectus is going to beat it in half an hour e poi la mia non è una semplice noce di cocco dentro c'è un tesoro croccante freschissimo per tutti poco Porco dio, 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 porco dio. Yeah, say hi to YouTube, this is going to YouTube with all the blasphemies.